Dove Eliana? Dove Eliana a Viscamore? Siamo pronti per il tezzo pezzo di oggi, di questa puntata di TAC e tutta un'altra comicità. Please on stage, Miss Silvia Ura! Ciao, 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 buonasera, buonasera. Allora, l'altra sera stavo guardando un film e io ho un'abitudine di guardarli doppiati i film perché secondo me non ha senso tirarsela guardandoli sottotitolati in lingua originale credendosi sofisticati, no? Il bello del film doppiato è proprio il doppiagese. Il doppiagese è quel gergo comune anche ai documentari di D-Max, non so se avete presente, no? Quel gergo che si parla solo in televisione, che si sente solo in televisione e non si sente mai nella vita vera, no? Tipo, non so, appunto nei documentari di D-Max. Mi trovo adesso nella grotta della morte dove sei mesi fa il mio amico Steve ha perso tutti gli arti. È un luogo magico. Credo che passerò la notte qui. Seguitemi, per esempio. Sì, infatti, in quanto doppiatrice, appunto, sono appassionata di doppiagese e per questo faccio una gran fatica, a volte, a non includerlo nel mio linguaggio quotidiano. Cioè ci sono delle occasioni precise in cui mi devo mordere la lingua perché penso adesso gliela sparo in doppiagese. Ad esempio, non so, quando conosco qualcuno di nuovo e mi presento, ho sempre due opzioni. La prima è essere la ragazza acqua e sapone della teen drama e quindi, ciao, sono Silvia, sono nuova in città, non ho nessuno con cui andare al ballo, se ti va di venire con me, insomma. Oppure la seconda opzione, quella un po' più gangster, mi chiedono, ah, così tu sei Silvia? Chi vuole saperlo? Da chi l'hai saputo? Questo. Oppure ci sono anche altre occasioni, tipo, mi è capitato diverse volte, magari con un ragazzo, dopo una serata, a letto, che magari lui mi dice, ah, mi è tanto piaciuto passare del tempo con te. Che ne dici magari se ci rivediamo, se cominciamo a frequentarci. Oh, 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 frena, frena, bello, frena. Non c'è nessun noi, non c'è mai stato e non ci sarà mai. Oppure grande classico, situazione quotidiana, in coda dal macellaio, tocca a me, sono duetti e mezzo, che faccio? Lascio. Maledizione, amico, ti ha dato di volta il cervello, per caso. Insomma, io con una telefonata faccio chiudere questa topaia e faccio sbattere le tue chiappe flaccide al fresco, cazzo. Quanto è vero, addio, ti riduco ancora brodo con la pistola che c'ho qua in tasca. Maledizione, amico. No, è veramente, veramente tragico. A volte davvero mi capita di volerlo dire di persona. Il doppiaggese, poi, non è la sola cosa che capita di strano nei film, no? Per esempio, pensate a, non so, quando sono in ospedale e si strappano la flebo, oppure iniziano una sigaretta e non la finiscono mai, oppure si mandano i messaggi in segreteria. Ma chi mai se li manda i messaggi in segreteria nel 2022, tra adolescenti soprattutto, no? Ehi, ciao, tesoro, sono Ashley, sono la tua ragazza, ma stiamo insieme da sei mesi, ma devo dirti chi sono, perché magari non mi hai salvato nella rubrica. Passi dal mio appartamento alle otto, così andiamo insieme. D'accordo, d'accordo. Non ti saluto, perché noi nei film americani non salutiamo mai alla fine delle telefonate, perciò, sì, va così. Oppure anche penso al cugino del doppiaggese il linguaggio delle pubblicità. Ce l'ho talmente sedimentato in me che io cammino per le strade e immagino di creare degli spot pubblicitari su quello che vedo, no? Non lo so, mi colo al naso, penso, naso chiuso? Nessun problema, te lo apro io, con un pugno. Oppure cerchi l'amore a portata di smartphone? Prova la nostra app per incontri disperata. Magari non avrai successo, ma lo trovi almeno un cesso. Oh, grazie! Sì, no, ne ho altre, per esempio, ah sì, ogni sera per rilassarmi scelgo Tisana Buon Respiro, augurandomi di esalare presto l'ultimo. Oppure anche Aicos, per quando ti viene voglia di scorreggere in scatola. Beh, no, volevo salutarvi adesso, è finito questo viaggetto nella mia mente, so che è stato faticoso, io, insomma, ci convivo, 24-7 è un po' complicato. Vi volevo salutare come se fossimo in un film romantico, nel finale di una rom-com. Io sono la protagonista, Acqua e Sapone, sono seduta su un taxi, il tassista mi dice, dove andiamo signorina? E io dico, a casa. Andiamo a casa. Grazie.